questa è la madonna che gli ho rimollato B non ci muove niente eccolo ma dove sparo dove cazzo sparo sono proprio fottuti entrambi vedi non è cinese ore oreano potevamo arrivarci uno è qua porca puttana era scarso come una merda l'ho fottuto un altro sta arrivato dove arrestava quello andiamo a plantare dobbiamo andare secondo me più veloci e spediti verso la vittoria mille colpi in testa ma non schiatta uno è passato era passato l'ho ucciso l'ho ucciso ma gli è in culo il fucile la k si è preso è passato cazzo che ora applauso ti fatti non ho nessun ball ha stato è passato non ho nessuno non ho nessuno ma sai quello l'arrivo no è sopra sul 3 sul oh ma questo... oh ma mi stava coltellando, perchè non l'hai colpito? da dove è uscito poi? 2-0 arrivano, non c'è uno dietro a me ne ho dato 5 e ti spawn un po' più lì lol un te escerà ok è un po' più attraversa è un po' più attraversa ok lo è andiamo no mi sono in genera questo è solo cataveri mi sembrava uno a 49 e push no c'è andare che se cazzo un altro un altro la sinistra di la casca deve essere connetto su uno l'altro non lo so bella ok it's B uno mi viene adesso connetto un fondo a destra uno ce l'ho dietro le spalle bella un fondo a destra due in fondo qua oh è qua un altro ma fa il giro da dietro non c'ho il kit non faccio in tempo vai 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 diffuso di diffuso di specie no non si fa in tempo vai 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 parami 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 ah due stanno mid uno forse ho due ok forse zero no un altro un altro ok guarda tu Heider io riguardo di qua ok stavo la bomba lì in fondo la vedete dai prendilo prendilo no no è più avanti si si l'ho visto eccolo non era il tuo fianco però si hanno tracci lasciato non capito più niente bella ooooo yeah un gravissimo un gravissimo vai cazzo sei come un ape di fiore in fiore no do no a 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 Autore dei sorrisi